Qualcuno mi ha ripreso perché queste benedette telecomunicazioni masticabili includono dei termini un po' indigesti. Verissimo, le telecomunicazioni sono lastricate di termini indigesti e purtroppo bisogna averne a che fare. Però chiaramente è possibile molte volte renderli masticabili. Nel video in cui ho parlato del 5G, provocatoriamente dicendo il fallimento annunciato del 5G, ho parlato di Killer Application. Killer Application tradotto in italiano fa un po' schifo e non rende senso perché significa applicazione assassina. Sembra qualcosa che distrugge la tecnologia. Nella realtà Killer Application non significa questo, quindi non è un'applicazione che distrugge la tecnologia, ma che la fa adottare. Ho fatto una ricerca su web per trovare una definizione che inizialmente non mi piaceva tanto, poi ho trovato la Treccani. L'Enciclopedia Treccani intera la definizione di applicazione, di Killer Application nel lessico del XXI secolo. È stata interata nel 2012, quindi non è un neologismo così neo. Inizia già ad avere una decina di anni come visione della Treccani. Ve lo cito, mi sono trascritto la definizione perché è interessante capire e rende molto l'idea. Allora, Killer Application significa applicazione che con la sua vasta e spesso rapida diffusione permette a un certo settore tecnologico di raggiungere una massa critica, cioè un numero sufficiente, di dispositivi hardware e o software collegati, tale da determinare la profittabilità del settore e solitamente un suo ampio successo. Questo è quello che significa Killer Application, quindi applicazione che distrugge i concorrenti. Quindi sì, è assassina ma nei confronti dei concorrenti, non nei confronti dell'applicazione che permetterà l'adozione. Un esempio pratico, mi sono notato questo perché è fondamentale capire cosa significa Killer Application. È una cosa che viene utile in molti altri settori e in futuro sarà una cosa normale, ci vivremo. Un esempio del passato è stato quello di Betamax e VHS. La VHS l'abbiamo avuta in casa un po' tutti per decine di anni, era il videoregistratore. Ma il videoregistratore è arrivato dopo Betamax. Betamax è uno standard di Sony, nato nel 1975-74, non ricordo con esattezza, ed ha preceduto la VHS che è arrivato con un anno di ritardo ed era uno standard proposto da JVC. Sostanzialmente cosa è successo? Nella pratica Betamax è arrivato prima ma ha perso il treno perché non è riuscito a diventare lo standard imposto a tutti. Quello che è successo è questo, che sì è vero il VHS aveva delle leggi e caratteristiche tecniche in più, ad esempio permetteva una maggiore durata del nastro e quindi col nastro maggiore si poteva registrare un intero film su un singolo supporto, su un singolo tape nastro. Con Betamax questo non era possibile e già lì un pochettino la bilancia stava pendendo. La killer application però è stata l'adozione da parte del settore della pornografia dello standard VHS. Lì la Betamax è uscita per sempre dal mercato e non è più riuscita a rientrare se non sotto altri settori di nicchia. Quindi il Betamax in casa non ce l'abbiamo mai avuto. Quindi quando io nel video del 5G cito l'esempio della killer application parlando di YouPorn, ho fatto questo paragone, qualcuno l'ha ritenuto fuori luogo, qualcuno l'ha ritenuto una inutile buttada. In realtà questo qui non era un paragone fatto a caso, ma perché chi conosce il settore, chi sa come funziona, come è funzionato l'adozione della VHS, sa che il settore della pornografia è stato quello che ha portato all'adozione della VHS piuttosto che dal Metax. Quindi l'application, la killer application di questo settore.